Bentornati amici, eccoci qui all'interno dell'applicativo di After Effects. Ovviamente la prima cosa che andiamo a fare è creare una nuova composizione. La chiamiamo semplicemente comp 1 e la lasciamo su 6 secondi con uno sfondo nero. Non sto a fare grosse modifiche qui perché ognuno di voi imposterà il progetto a seconda di quello che è la propria esigenza, quindi non sto a fare settaggi strani in questo caso, ci teniamo proprio sul basic e gli diciamo ok. Una cosa che voglio andare a fare subito, tanto gli dico fit così vedo per intero quello che sto facendo, una cosa che voglio fare subito è salvare il mio file, salvare la mia sessione perché mi chiederà dopo di salvarla obbligatoriamente, quindi lo faccio subito e mi tolgo da questo impiccio. Salviamolo e lo chiamiamo titoli 1, giusto per dargli un titolo. Ora quello che andiamo a fare è, innanzitutto vi ricordo che stiamo lavorando su un progetto con lo sfondo trasparente, quindi in questo caso è buona norma in realtà andare a inserire un'immagine o una clip per vedere quello che stiamo facendo perché altrimenti abbiamo questo imbroglio del fatto che noi vediamo uno sfondo nero che in realtà non esiste. Per questo motivo io adesso vado a inserire all'interno della nostra sessione un'immagine, è una fotografia, adesso andiamo anche a scalarla in maniera tale che la vediamo un pochettino più chiaramente, ok questa è una fotografia che noi lasciamo qui semplicemente come segna posto, non ci interessa più e anzi io la blocco pure perché non mi deve dare fastidio. La lasciamo lì però ci serve per renderci conto di quello che stiamo facendo, ora posso disattivare la trasparenza dello sfondo. Benissimo, cominciamo con l'inserire un livello di testo, quindi prendiamo lo strumento testo e andiamo a cliccare all'interno della nostra sessione, andiamo a scrivere una frase qualsiasi. Io scrivo animazione titoli, vado a dargli un font ben leggibile, in particolare il Montserrat è uno dei miei font preferiti in assoluto, per quanto che sia uno dei più eleganti del mondo, quindi se volete consigli per font belli da usare questo è sicuramente in cima alla lista sempre, perché è veramente uno dei più fighi mai esistiti. Allarghiamo un pochettino il nostro testo in modo che sia abbastanza grande, a questo punto quello che facciamo è che creiamo un secondo livello di testo, in questo caso io premo Command D o Control D avendo selezionato il primo, quindi lo duplico semplicemente, vado a questo punto a prendere la mia freccia, lo trascino giù e qui adesso vado a fare delle modifiche, nel senso che gli do un peso inferiore, gli do una dimensione inferiore, gli levo il tutto maiuscolo, scriviamo una cosa giusto per dargli un po' di differenza. Ok, adesso andiamo a posizionare i nostri titoli in maniera tale che siano più o meno centrati, non devono neanche essere perfettamente centrati perché qui è una questione anche di gusto, così più o meno, più o meno siamo al centro. Quello che mi interessa in questo caso è che siano allineati in questo modo, cioè devono essere centrati sui centri verticali ma per il resto non ci interessa che siano perfettamente al centro e andiamo subito a vedere perché. Innanzitutto ci rendiamo conto di una cosa, in questo modo noi abbiamo un titolo che è bianco e che potrebbe quindi non leggersi benissimo sullo sfondo, per cui una cosa che andiamo a fare subito è questa. Creiamo un nuovo solido, oppure potremmo anche usare, possiamo usare sia un solido sia una forma, in questo caso usiamo una forma perché per praticità facciamolo bene però, quindi andiamo a fare nuovo, nuova forma e qui abbiamo uno shape player vuoto. A questo punto andiamo ad aggiungergli delle cose, per cui gli aggiungiamo un rettangolo, gli aggiungiamo un rettangolo e qui lui ci dà delle dimensioni e ce le dà in percentuale, in realtà noi non le vogliamo in percentuale ma vogliamo 1920x1080, ecco fatto, così ci ha riempito esattamente il nostro frame. Adesso andiamo ad aggiungere un'altra cosa perché abbiamo aggiunto una forma, però è una forma vuota. Adesso andiamo ad aggiungere un fill, ovvero un riempimento. Questo fill di default è rosso, noi non lo vogliamo rosso, è un colore che ha un pugno in un occhio, lo vogliamo nero invece. E adesso abbiamo un opacity, l'opacity io la metto a 40, è giusto indicativo, possiamo modificarla ovviamente, la metto a 40. A questo punto questo shape layer lo mettiamo come ultima cosa in fondo prima della nostra immagine perché è un livello di nero che serve a staccare i nostri titoli dallo sfondo e vedete che infatti così si legge molto meglio. Andremo poi ad animarlo in maniera tale che sia anche gradevole perché questa non è una grafica fissa così ma sarà un'animazione appunto. E andiamo a vedere che cosa vogliamo fare per animare ulteriormente questa schermata. Andiamo subito a creare un nuovo shape layer e di nuovo sarà vuoto. In questo caso io adesso vado ad aggiungere un rettangolo e questa volta lo voglio di 20x400 circa. Sì, così dovrebbe andare assolutamente bene. Facciamo 30. facciamo 30. No, troppo. Facciamo 25. Deve essere aggraziato. Facciamo 25 e facciamo 500. Sì, ecco. Lo vogliamo aggraziato. Andiamo ad aggiungergli un fill e allora qui come colore di fill io ovviamente il rosso non lo userò mai quindi non chiedetemelo però gli vorrei dare un arancino. Una cosa del genere. Non troppo pesante. C'è qualcosa che si discosti dal giallo ma che sia comunque sul chiaro. Bene, è il momento di vedere come ce la caviamo con qualche animazione base. Partiamo proprio dal nostro rettangolo perché quello che io voglio fare è cambiargli sia la forma sia la posizione. Per cui adesso quello che andiamo a fare è aprire la tab trasformazione. E qui abbiamo una scala che voglio svincolare nel senso che voglio gestire prima il verticale e poi l'orizzontale. Partiamo da zero, anzi non partiamo proprio da zero. Partiamo da un pelino dopo zero. Partiamo da due frame dopo lo zero e io qui vado a mettergli zero a entrambi i parametri. Anzi facciamo una cosa. Per lavorare meglio sarebbe meglio andare a un secondo e dirgli che qui è già come la vediamo. Così andiamo a lavorare in negativo ovvero teniamo la forma così com'è perché questo è il risultato finale. Torniamo indietro e qui gli andiamo a dire che deve essere a zero. Vedete che cosa succede? Succede che si comprime. Gli andiamo a dire che deve essere a zero sul fronte verticale per cui quello che avremo sarà che la nostra forma compare. Quindi all'inizio sta a zero e poi compare in questo modo. Questa è un'animazione molto molto semplice e io vi dico già che adesso noi andiamo a copiare questi due keyframe quindi li selezioniamo entrambi. Facciamo command c o ctrl c a seconda della piattaforma che stiamo utilizzando andiamo più avanti e incolliamo i due keyframe. Li posizioniamo più o meno in questo modo così lasciamo un minimo di margine. Adesso quello che andiamo a fare senza deselezionarli è che andiamo a cliccare col tasto destro andiamo su keyframe assistant time reverse keyframes. In questo modo abbiamo invertito e quindi vediamo che così come all'inizio questo rettangolino nasce e rimane così allo stesso modo alla fine va a scomparire esattamente allo stesso modo. In questo modo abbiamo un'animazione di entrata e di uscita perfettamente uguale. Adesso non ci fermiamo qui ovviamente perché vogliamo fare anche un'altra cosa. Adesso andiamo a lavorare infatti sulla posizione. Teniamo aperti questi keyframe perché ci serve vedere a che punto abbiamo lavorato. Infatti a questo punto il nostro rettangolo è completamente comparso per cui noi andremo un keyframe dopo o anche esattamente sullo stesso ma comunque in quest'area. Io preferisco uno dopo ma questa è una scelta assolutamente opinabile. In questo caso clicchiamo sul time watch di posizione così creiamo il nostro primo keyframe anche per quanto riguarda la posizione. Ora andiamo a spostarci di qualche frame più avanti. Dopo queste tempistiche le reimposteremo quindi adesso sono assolutamente opinabili. Quello che vogliamo andare a fare è spostare lateralmente il nostro rettangolo ma lo vogliamo spostare di un amount ben preciso. Quindi siamo a 960 perché è centrato. Io adesso gli voglio dire lo voglio spostare in qua quindi andremo in negativo quindi da 960 e vi dico 960 meno 600 per esempio e vediamo che non basta. Per cui io annullo e stavolta gli dico meno 700. Stavolta è sufficiente ma siamo al pelo quindi diciamo che ancora non basta. Riproviamo e gli diciamo meno 800. Ok adesso siamo ragionevolmente sicuri che con questo movimento il nostro rettangolo si sposti fuori dall'area che ci interessa per i nostri titoli e ci consente anche un minimo di agio se dovessimo scrivere qualcosa di lievemente più lungo di questo. Una volta che abbiamo fatto questo movimento facciamo quello che abbiamo fatto prima ovvero andiamo a copiare questi due keyframe, command C, andiamo a posizionarci più o meno alla fine e andiamo a dirgli copia e incolla. Proprio come prima andiamo su keyframe assistant, li invertiamo quindi abbiamo questa grafica che si sposterà e tornerà in posizione e tornerà a scomparire. Adesso questo shape layer noi lo chiamiamo rettangolo sinistra ma a noi ne servono due perché adesso ne vogliamo un altro sulla destra. Ora io seleziono questo livello che è il nostro rettangolo e premo U. In questa maniera evidenzio solamente le cose che ho fatto. Vedo soltanto i keyframe che ho già posizionato così ho meno casino. Vado a duplicarlo quindi command D oppure tasto destro e duplica. Vado a nominarlo rettangolo destra. Adesso andiamo a fare un'altra cosa. Io qui premo U anche su questo così vedo quello che è stato fatto. Per quanto riguarda la position qui siamo a 960 ovvero siamo in mezzo e in questo momento ovviamente questi due rettangoli fanno esattamente lo stesso movimento. Ora io qui gli ridò 960 dopodiché gli dico più 800 e così questo si va a posizionare esattamente dall'altra parte. Parimenti qui gli vado a dire 960 più 800 e in questo modo ho pareggiato le due animazioni. Vediamo che in questo momento, anzi fatemele deselezionare così almeno le vediamo bene se no non capiamo niente. Vediamo che qui il nostro rettangolo va a nascere, qui si separano e vanno a posizionarsi ai lati. Allo stesso modo alla fine dell'animazione si restringono e tornano a scomparire perfettamente sincronizzati esattamente nello stesso modo. Molto bene. Se avete seguito fin qui non vi nascondo che siamo già a buon punto. A questo punto quello che andiamo a fare è che creiamo una nuova forma avendo cura di avere il fill a 100%, per cui clicchiamo su fill e assicuriamoci che sia al 100% e che sia effettivamente riempito con un colore. A questo punto andiamo a creare una nuova forma, ci posizioniamo più o meno all'interno della nostra prima barra e andiamo a posizionarci all'interno della seconda barra avendo cura di coprire per intero il primo titolo e solo il primo titolo perché questa sarà una maschera che servirà solo per il primo titolo. Ora cosa importantissima andiamo a centrare perché vedete che non era perfettamente centrato, l'avevo fatto a mano. Centriamolo subito, questo è importante, se no poi non funziona più niente. Lo chiamiamo maschera 1 perché questa sarà la maschera del primo titolo e la posizioniamo sopra il primo titolo che è questo qui. Ora in questa fila andiamo a selezionare alpha matte mask 1. Questo funziona solamente se i due livelli sono posizionati uno sotto l'altro quindi è importante tenerli vicini. Se vengono separati non funziona più perché questo canale alpha funziona prendendo come riferimento il livello immediatamente sopra quindi è importante che rimangano vicini. Adesso andiamo a vedere che cosa è successo. In questo momento non succede niente come potete vedere perché la maschera è ferma. Adesso però noi andiamo a modificarla questa maschera. Andiamo sulla tab di trasformazione e abbiamo la scala. Come sempre svincoliamo il verticale dall'orizzontale perché noi vogliamo, vedete, noi vogliamo agire solamente su questo parametro. Per cui che cosa andiamo a fare? All'inizio dell'animazione ovviamente, anzi andiamo alla fine scusate, alla fine dell'animazione ovviamente la maschera dovrà essere completamente aperta. Per cui qui su scala gli andiamo a dare un primo keyframe in questo punto. Quando andiamo, quando le nostre due barre sono ancora unite, la scala deve essere a zero. Quindi andiamo a zero, adesso verifichiamo che si comporti correttamente e vediamo che effettivamente non lo fa perché qui la maschera è andata lievemente oltre. Per cui che cosa facciamo? Andiamo ad agire sui keyframe e la riportiamo. Avevo cliccato male io ovviamente. Sbagliamo più spesso noi della macchina, quindi io mi tendo a fidare della macchina. Vedete che adesso, step by step, la nostra maschera segue perfettamente due stanghette che abbiamo creato. Per cui l'animazione è eseguita correttamente. Quello che abbiamo ottenuto è che il primo titolo compare all'interno delle nostre due stanghette. Ora, come avrete sicuramente già intuito, andiamo a fare sempre la stessa cosa a questo punto perché andiamo a copiare questi due keyframe, li selezioniamo, command C, andiamo a posizionarci alla fine, command V, facciamo clic, keyframe assistant, time reverse keyframes e adesso andiamo a cercare di posizionarli in maniera corretta perché di nuovo qui dobbiamo andare a beccare il punto esatto dove comincia il movimento. Qui comincia il movimento delle barre quindi io vado a posizionarmi qui ed è corretto, vedete che si muovono insieme. A questo punto è abbastanza facile il da farsi perché qui abbiamo già tutto, dobbiamo solamente copiare la maschera 1, quindi facciamo command D o control D, la copiamo, già si chiama mask 2, la portiamo sopra questo livello animazione con grafica essenziale che è il nostro secondo titolo e andiamo ad attivare alpha matte mask 2. Ora come potete vedere non funziona, perché non funziona? Non funziona perché noi abbiamo duplicato una maschera e quindi questa maschera è posizionata di nuovo sopra il titolo 1, per cui quello che noi dobbiamo andare a fare adesso è che dobbiamo modificare la posizione e dobbiamo portare questa maschera nella posizione corretta, per cui andiamo a portarla giù e vedete che animazione con grafica essenziale è comparso come per magia, eccolo qui. Per cui a questo punto abbiamo la nostra animazione perfettamente strutturata, andiamo su window e andiamo ad aprire grafiche essenziali o essential graphics a seconda della lingua in cui lo state vedendo. Andiamo ad aprirlo, è una finestra che di solito non si usa, non è una finestra che si vede già aperta di default, perché serve a fare una cosa particolare. Innanzitutto andiamo a selezionare una composizione, in questo caso abbiamo solo la nostra comp 1, che si chiama senza titolo, in questo caso andiamo a nominarla, andiamo a chiamarla con il titolo che vorrete vedere all'interno di Premiere, quindi io in questo caso come posso chiamarlo? Titoli 1? Lo scegliete voi il nome, gli date un nome che vi permetta di ricordarvelo e di trovarlo agevolmente, non ha importanza quale sia, l'importante è che lo sappiate voi. Ora qui dobbiamo andare ad aggiungere delle informazioni, perché dobbiamo dirgli che cosa vogliamo vedere all'interno di questa composizione, per cui andiamo a vedere per esempio che per i nostri rettangoli io gli voglio andare a dare il colore, gli voglio dare il colore del nostro primo rettangolo e gli voglio dare, vado di nuovo su fill, gli voglio dare il colore anche del secondo, perché queste sono cose che voglio poter cambiare all'interno di Premiere, magari non voglio più l'arancione, magari voglio fare uno di un colore e uno di un altro, in questo modo questi parametri saranno editabili all'interno di Premiere, quindi queste sono due cose che sicuramente gli vado a dare. Un'altra cosa che gli vado a dare, vado ad aprire il mio testo e vado a selezionare testo sorgente, lo trascino dentro, qui mi viene fuori testo sorgente con la scritta che era effettivamente, io vado a cliccare su modifica proprietà e vado a spuntarle tutte, perché io voglio avere la possibilità di modificare tutte queste cose all'interno di Premiere, quindi voglio poter cambiare il font, voglio poter cambiare la dimensione, voglio poter agire liberamente su tutto quanto, in maniera tale che se devo cambiare i miei titoli, lo posso fare, vado a fare ovviamente la stessa cosa anche per il titolo principale, quindi in questo caso abbiamo fatto animazione con grafica essenziale, ma facciamo anche animazione titoli, facciamo la stessa cosa, testo sorgente, vediamo se posso spostarlo sopra, ecco, testo sorgente, animazione dei titoli e modifica proprietà, in questo caso me l'ha già tenuto, perché mi ha tenuto le impostazioni che avevo impostato precedentemente, quindi abbiamo i due colori e abbiamo il nostro testo perfettamente editabile, a questo punto noi possiamo esportare il template, per cui andiamo a esportarlo perché vi dicevo di salvare il file prima, perché vi chiede adesso di salvarlo, quindi tanto vale averlo già salvato di partenza. Ok, qui sta creando il nostro template, il nostro template va a essere collocato automaticamente dentro nella cartella in locale, quindi cartella dei template che è una cartella standard di Adobe Creative Suite, per cui lo troverete già dentro nella sua posizione corretta e non dovete preoccuparvene, nel senso che Premiere lo sa già che questo tipo di file viene posizionato lì e quindi all'apertura lo andrà a recuperare automaticamente senza bisogno di dirgli niente. Andiamo a selezionare ok, ah giusto, ci siamo dimenticati una cosa però, avete visto che cosa ho fatto? Ho lasciato la mia immagine di sfondo, noi questa non la vogliamo più, noi vogliamo avere solamente l'animazione senza questa immagine, per cui adesso questa la rimuovo proprio. A questo punto vado a esportare nuovamente, la traccia deve essere salvata, la salvo nuovamente, si chiamerà sempre titoli 1, quindi io vado a dirgli ok, lui mi chiede se voglio sostituirla e io gli dico sì, voglio sostituire quella che avevo già fatto, perché è uguale con la sola differenza che questa volta ho cancellato la fotografia di sfondo, perché non la voglio, in questo caso nella mia composizione non voglio quella foto sotto, perché voglio avere solamente i titoli. A questo punto ci troviamo all'interno di Premiere, facciamo una bella cosa, prendiamo la stessa foto che avevamo prima, la schiaffiamo dentro, andiamo a creare una nuova sessione, in questo caso nuova sequenza da 1080p, tanto è giusto per fini dimostrativi, non stiamo a fare niente di particolare, andiamo a inserire la nostra immagine, che ovviamente è super mega gigante come prima, quindi la vado a scalare un pochino, ma questo è giusto per avere uno sfondo e fra l'altro lo stesso sfondo di prima, quindi ci fa anche comodo. Vedete che qui all'interno del pannello grafiche essenziali, che se non avete aperto si trova qui proprio come in After, qui abbiamo una serie di template, che personalmente ho sempre trovato un po' datati, nel senso che ce n'è qualcuno utile, però quello che possiamo fare in After è molto più invasivo di quello che abbiamo qui, e qui vedete che abbiamo il nostro animazione titoli. A questo punto noi possiamo ovviamente prendere il nostro titolo animato, posizionarlo all'interno della nostra timeline, e vediamo che quello che succede nel momento in cui mandiamo in Play è che avremo esattamente la stessa animazione che avremo su After, quindi la nostra missione è perfettamente riuscita, abbiamo importato i nostri titoli all'interno di After, a questo punto i nostri titoli sono editabili attraverso la finestra di Edit e qui troviamo esattamente le stesse caratteristiche che avremmo avuto all'interno di After, quindi possiamo modificare tutti i parametri che avevamo deciso di importare all'interno di questo file. Come sempre io spero che questo video vi sia stato di aiuto, fatemi sapere che cosa riuscite a creare con questo bellissimo meccanismo dell'Essential Graphics, lasciatemelo scritto in un commento, vi ricordo di lasciare un like a questo video di incoraggiamento e di seguire questo canale se volete scoprire altre chicche come questa. Signori è stato un piacere e io vi do come sempre appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti.